racconti in cammino un podcast di alessandro carnevali ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di racconti in cammino dove racconteremo storie di persone che hanno camminato molto a lungo o in situazioni molto belle chi sono io sono alessandro carnevali un giovane studente dell'accademia di belle arti studio fotografia cinema e televisione e ho anche un canale youtube dove parlo di cammini trekking e si chiama the walking nose sono qui oggi per la prima puntata con marco fontichiari mio grande amico e compagno di accademia il quale diciamo è il motivo per cui ho iniziato a camminare marco qualche anno fa ha fatto il pct il pacific crest trail un grandissimo e lunghissimo cammino negli stati uniti chi sei marco vabbè sono un anch'io sono un studente dell'accademia di belle arti sono un grande trekker cioè almeno secondo me perché comunque di cammini ne ho fatti ho cominciato quando avevo 16 anni ho fatto per la prima cosa in italia un cammino sul triangolo larviano che l'ho fatto da como fino a menaggio e poi da quello sviluppato sviluppato pian piano c'è gli anni di vita diversi cammini in giro tra cui il pacific crest trail che è il più lungo che mai fatto che è un cammino di 4000 più chilometri fatto nell'arco di otto mesi circa piccola cosa da dire marco è italo californiano californiano marco è nato a napa valley napa in california però vive a cagno che è in provincia di como esatto per cui marco raccontaci un attimo che cos'è il pct ci hai già introdotto che è un cammino che va fatto nell'arco di 6 8 mesi molto lungo di 4000 chilometri ma raccontaci un pochino di più nel dettaglio in sintesi che cos'è il pct vabbè comincio a raccontare un attimo da come sono entrato in contatto con questo cammino io dopo il liceo avevo deciso di andarmene a vivere negli Stati Uniti per capire un attimo di più da dove c'è dove sono cresciuto durante l'infanzia arrivato lì ho cominciato a lavorare per i miei zii a fare delle cose a una certa ho scoperto dell'esistenza del pacific crest trail che è un cammino che quando l'ho scoperto era un cammino che andava dal confine messicano quello canadese ho detto wow che figata quanto sempre bello un giorno andare a fare questa cosa in che città parte il pct comincia da campo campo che ha circa un'oretta da san diego e sei proprio in mezzo al deserto circondato da piccoli arbusti è un clima molto secco cominciando qua tu cominci cioè cominciando a campo in california con alle spalle la proprio vedi il muro che fa il confine con col messico guardi verso il nord e sai che in quella direzione hai il canada e che praticamente non hai nient'altro che giorni e giorni chilometri di cammino in quel senso per poi dopo raggiungere la tua destinazione mi sono documentato ed effettivamente uno può decidere di fare questi lunghi cammini da nord a sud o da sud a nord e tu hai deciso di farlo da sud a nord tipicamente si fa da sud a nord questo è per un motivo di semplicemente di scioglimento delle nevi perché se tu cominci troppo presto nella stagione c'è il rischio che tu arrivi in alta quota e c'è una c'è troppa neve non scendere avanti e quindi io ho cominciato nei primi mesi di di aprile del 2013 quindi quattro anni fa andando avanti praticamente quell'inverno aveva nevicato poco e quindi mi aspettavo di trovare poco quasi niente di neve invece sono arrivato su nella sierra nevada e c'erano parecchi metri di neve e però non è da sottovalutare assolutamente la neve per cui la prima domanda che ti faccio è perché sei partito che cosa ti ha spinto a imbarcarti in un cammino di 4000 chilometri di sei mesi cioè di solito quando parlo di tale persone mi dico no ma questo è pazzo ogni volta che dico di voler fare una cosa del genere tutti partono con la pazzia cioè c'è un sentimento di pazzia che ti spinge a fare qualcosa qual è il motivo per cui sei partito è un po per spingermi oltre i limiti che già avevo cioè la pazzia sicuramente fa parte della cosa prima di questo al liceo avevo già fatto dei cammini di 90 chilometri in un giorno dove l'obiettivo era semplicemente quello di testare il proprio limite del corpo cioè cammini per 17 ore di fila ti spacchi le gambe dici cazzo cioè sono qua sono morto ti spacchi le gambe stai male e poi dopo continui a camminare nonostante tutto hai questa voglia di andare avanti quando ho scoperto che c'era un sentire così lungo che potevo andare a conquistare gli stati uniti tra virgolette calpestandole era una sensazione che ho detto no io voglio farlo cioè io voglio riuscire a fare sta cosa e visto che ho il tempo e i soldi per farlo vado e vado a conquistarmi gli stati uniti come voglio io hai parlato di soldi ed effettivamente una cosa che le persone con cui ho parlato di te si sono chieste subito è stato ma come si è mantenuto questo tuo amico perché sei mesi camminando ovviamente non puoi lavorare mentre mentre stai camminando come hai gestito le tue finanze in questi sei mesi vabbè cioè ci sono diversi modi in cui la gente si approccia a questo cammino ho cominciato con una bella somma iniziale perché avevo lavorato due stati in alpeggio e poi quindi potevo dire vabbè me ne vado e posso poi dopo quando avrò finito avrò ancora dei soldi potrò andare avanti a vivere tra virgolette però c'è dal barbone che non ha neanche un soldo che fa tutto il tempo mangiando cibo in scatola fagioli riso e fa la fame durante il cammino se no che ne so c'è un il lacquer o che ne so il programmatore che ogni volta che entra in paese si mette lì per due tre giorni fa tutto quello che deve fare attraverso l'internet e poi continua a camminare cioè c'è gente che riesce a mantenersi anche durante il cammino poi ci sono gli atleti professionisti che hanno degli sponsor poi ci sono i blogger ci sono diverse realtà e questa è la cosa interessante cioè non nessuno è limitato cioè non è che solo chi non ha un lavoro può fare questi cammini tutti possono avere la possibilità è soltanto una questione di volontà di mettersi di andare fuori e far sta cosa c'è stata anche una volta che ne so io stavo camminando c'era sta signora che continuava a chiedermi ma ma aspetta ma come fai c'è dove prendi i soldi vabbè senta signora ho lavorato adesso ce li ho ma sei sicuro che non hai bisogno di niente ma posso darti qualcosa e invece c'è finalmente sta signora cioè continuava a chiedere a chiedere a chiedere fino al momento in cui dici no signore senta signora se proprio vuole darmi dei soldi mi dia qualcosa c'è tanto cioè donazioni le accetto e poi l'ho ribeccata diverse volte durante il cammino ma casualmente era una che stava facendo le sue vacanze che facevi due tre giorni poi dopo la beccavi in un altro parco nazionale proprio il destino del cammino è una cosa incredibile c'è becchi le persone dopo c'è dopo giorni è quasi quasi per miracolo c'è quasi per destino è molto particolare parlando di destino sul cammino informandomi e sapendo un po i tuoi racconti ci sono due cose che mi hanno colpito particolarmente di questi lunghissimi cammini che sono due cose che vengono chiamate i trail angels gli angeli del cammino e la trail magic la magia del cammino tu adesso mi hai parlato di destino quindi sembra che questo destino sia la magia del cammino parlaci un po del dei trail angels se hai avuto a che fare con loro comunque ne hai incontrati e dei momenti che ti sono sembrati più assurdi sul cammino quelli che hai detto cavolo questa è proprio trail magic c'è tanta gente che riprende fiducia nell'umanità dopo questi cammini perché capisci che c'è del buono lì fuori c'è della gente che è veramente disposta ad aiutare un estraneo solo perché è lì davanti a loro che hanno bisogno di una mano che non sono dei pezzenti che ti fanno l'elemosina perché vogliono andare prendersi la droga e gente che semplicemente ha un obiettivo nella vita e tu dici voglio aiutare questa persona a raggiungere il suo scopo in qualunque modo che posso questo qua succede che non so tu stai camminando sotto il sole per giorni e a un certo una certa tu arrivi a un posto sotto un albero e c'è una cella frigorifera piena di bibite fresche una cosa così semplice come l'acqua fredda o una bevanda fresca ti sembra più cioè preferisci a un chilo d'oro a quel momento anzi le cose pesanti sono cose che ti vuoi disfare perché sono in più e poi dopo anche le persone le persone che ti ospitano in casa che tu arrivi a una certa che arrivi a un passaggio dove passi una strada principale c'è un numero telefonico di questa persona che ci chiamami ti vengo a prendere vieni a casa mia ti vengono a prendere ti mettono ti fanno dormire nella stanza degli ospiti ti fanno da mangiare ti fanno fare una doccia ti lasciano che ti lavi i vestiti e poi continui per la tua strada ringrazio infinitamente tanti lo fanno neanche non vogliono neanche soldi in cambio cioè provi a darglieli ma loro dicono se vuoi veramente aiutare qualcuno dona i soldi all'associazione del pacific crest rail che sono quelli che per me cioè fanno in modo che voi riuscite a far realizzare il vostro sogno per andare avanti sul discorso introduttivo del pacific crest rail se ti va di dire ma come ti sei preparato per il pacific crest rail cioè tu comunque sei sempre stato un camminatore abbastanza allenato però hai fatto un allenamento particolare prima di partire ti sei un po preparato allora a livello di preparazione io per un mesetto due mesi prima ho fatto ogni mese mi alzavo all'alba e andavo sulla montagna che c'era dietro a casa mia saranno stati un sei o sette chilometri con uno zaino e ogni mattina mi alzavo e andavo più che a livello fisico perché comunque quello lì ti viene camminando cioè è più a a livello logistico perché devi capire dove fare il fornimento devi capire quanto ti manca tra una tappa e l'altra devi capire quanto quanto cioè banalmente quanto devi spendere per fare tutte le cose e io ad esempio per risparmiare avevo mandato dei pacchi in dei paesini lungo la via in modo che io quando arrivavo andavo alla posta e mi mi prendevo il mio pacco con dentro il cibo che mi serviva per quella per quel pezzo più dentro le mappe che mi servivano e quindi c'è tanto c'è tanto lavoro e quello è di preparare le cose in modo che poi quando arrivi a durante il cammino hai meno cosa a cui pensare se non quello dell'andare avanti camminare allora marco hai parlato di logistica e quando hai preparato il tuo viaggio come ti sei approcciato alla questione della mappa che cosa usavi per orientarti usavi un gps una cartina cartacea quando ho cominciato a pianificare il tutto volevo essere sicuro di avere tutto quello che mi serviva per l'orientamento quindi avevo tre forme di orientamento che erano delle mappe cartacee che avevo stampato che si trovano online avevo preso un gps su cui ho messo delle tracce e in più un'applicazione del cellulare queste cose in realtà cioè secondo me era meglio avere l'eccesso perché se una cosa non andava potevi sempre cadere su un altro un altro mezzo tecnologico questo però non è che mi ha salvato sempre dal fatto di perdermi di non sapere dove ero prima della sera nevada quindi percorso un'alta quota ho arrivato lì mi sono messo ad aprire il pacco che mi aveva mandato mio fratello e dentro mancavano le mappe cartacee di quel tratto e quindi ho detto vabbè vado avanti comunque tanto c'è c'ho il gps che funziona e poi dopo c'ho il cellulare c'è quelle due cose lì mi basteranno dopo un giorno che sono partito dal paese il gps della praticamente mi ha teletrasportato in mezzo al bruchino a faso di posizione mi ha riportato dove ero e non c'era neanche più una traccia e quindi ero in mezzo alla montagna con soltanto dei segna via dove dovevo essere ogni ogni chilometro e quindi avevo praticamente una dei dei punti come le briciole di hans e le gretel che dovevo seguire poteva anche andare bene una volta che c'era il sentiero ma una volta arrivati a 4 mila metri a un passo di 4 mila metri è rimasto un po fregato perché non sapevo più dove andare perché io stavo guardando in mezzo a questo passo che c'era un dirupo ed ecco vabbè io cosa faccio c'è il gps dice di andare verso il dirupo io comincio a camminare sopra la sta neve dove sprofondo fino all'anca perché non avevo il ciaspo né niente praticamente ho passato tre giorni così nella neve senza un vero c'è mezzo c'è senza del un dispositivo per orientarmi serio e lì ti spaventi c'è lì c'è capisci che la vita è una cosa fragile che che non sai bene cosa succederà dopo ogni angolo e non sai se stai sprofondando poi dopo finisci in un crepaccio qualcosa c'è sono momenti veramente duri però c'è a un certo punto entra in atto un un'azione di di quasi di di fight or flight cioè o combatti o fuggi e in quel momento praticamente non senti neanche la paura perché l'adrenalina così tanto a mille che non hai spazio per dire oddio cosa sta succedendo cioè sei lì in quell'istante è diventa una cosa molto intensa poi cos'altro però poi sì mi sono perso un sacco di volte ma quando ti perdi non fa nient'altro che trovare il modo più facile per ritornare sul sentiero cioè ci sono i fondamentalisti che dicono no devi tornare indietro fino al sentiero e poi continuare perché se non hai percorso proprio tutti i chilometri passo per passo non hai fatto veramente il pct io sono un po meno fondamentalista secondo me quando se sbagli sentiero vai avanti finché non ti ricolleghi cioè fai te il tuo sentiero perché secondo me è tutta gente che non ha mai camminato con la neve perché una volta che c'hai una distesa bianca davanti non c'hai più il sentiero te ne freghi un po c'è del del fondamentalismo che si fa in un modo o in un altro vai è l'importante di collegare due punti infatti un po come mi dicevi te c'è chi se lo fai da nord a sud o da sud a nord northbound o southbound c'è anche gente che fa il flip flop come l'ho fatto io dove vai avanti per un tot salti un pezzo vai fino in fondo torni indietro e fai l'altro pezzo che ti manca e quindi c'è non c'è il modo di fare un cammino c'è come uno se la sente uno come può farcela c'è gente che lo fa in un più cioè ci mettono cioè io sinceramente ho molto più rispetto per chi lo fa nell'arco di dieci anni perché io mi sono preso sei mesi ho fatto c'è gente che ci torna ogni anno per fare un piccolo pezzo finché non finisce che secondo me è molto più difficile impegnativo che dire ok vado e faccio le mie cose gente che si prende due settimane all'anno di lavoro e vanno e fanno c'è molto da cioè secondo me sempre l'ottica che è importante di andare fuori e camminare poi ognuno come trova il proprio modo eccetera va bene però l'importante è andare fuori e farlo bene direi che per oggi per questa prima puntata di racconti in cammino marco ci ha dato moltissime cose su cui riflettere tantissimi spunti da poter approfondire se siete più interessati a scoprire che cos'è il pct fate qualche ricerca su google o su youtube che c'è tantissimo materiale e ci vediamo alla prossima puntata dove continueremo a parlare con marco e parleremo dei personaggi più strani che si incontrano in un cammino ciao a tutti buon cammino ciao